La strada per la ricostruzione della Pineta d'Annunziana è stata tracciata nei prossimi giorni. Arriverà sul tavolo del sindaco di Pescara Carlo Masci la relazione complessiva che indicherà le linee guida per la rinascita della Pineta e che verrà stilata dai tre esperti Nevio Savini, Dario Febbo e Gianfranco Pirone, nominati nella commissione comunale fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Il primo intervento da avviare entro novembre sarà quello della rimozione della grande massa di rifiuti che durante i sopralluoghi dei giorni scorsi sono stati rinvenuti all'interno del perimetro del comparto 5 andato distrutto nell'incendio del primo agosto scorso. Ieri abbiamo avuto il secondo incontro, avevamo avuto già una prima relazione dalla commissione degli esperti, tre esperti che sono stati nominati dal sindaco che ci hanno riferito alcune cose. L'altro giorno siamo andati addirittura con il sindaco e con i nostri tecnici a fare un sopralluogo insieme a loro al comparto 5, dove abbiamo trovato delle cose assurde. Faccio riferimento a ingombranti, bottiglie vuote, materassi, reti di materassi, calcinacci e ieri è stata presa la prima decisione che è quella di pulire. La prima cosa da fare è pulire. Adesso dobbiamo trovare il modo per non andare a compromettere il suolo, il terreno, perché già si comincia a vedere qualcosa che riparte. Quanto riguarda invece la riapertura, almeno parziale, della riserva d'Annunziana, si può assessore ipotizzare una data in questo momento? La riserva d'Annunziana, immagino che lei faccia riferimento al comparto 4. Su quello ci stiamo lavorando e penso che nel giro di un paio di mesi riusciremo a riaprire quella zona. Per quanto riguarda invece il comparto 5 il discorso è diverso? Il comparto 5 sarà un discorso molto complesso e molto delicato, bisognerà aspettare forse qualche anno.